gentili telespettatori buona giornata uno zeleschi in casa di putin la storia d'amore tra la secondo genita di putin e il ballerino igor zeleschi per amore di igor zeleschi alcuni fanni alcuni anni fa caterina ticonova si sarebbe trasferita in germania dove lui era uno stimato uno stimato e noto coreografo e mi viene in mente un film di alberto sordi quando lui faceva coreografo maestro di danza faceva un deux trois quattro le duple voilà ecco non so se l'avete visto coreografo maestro di danza igor zeleschi a volte il destino è un po beffardo da scenari del tutto vi da vita scenari un po improbabili queste notizie che arrivano dalla russia che riguardano soprattutto la famiglia di vladimir putin è difficile vengano verificate confermate ma c'è una voce sempre più insistente che racconta di un fidanziamento tra caterina ticonova figlia minore del come si chiama di putin e il ballerino e maestro di danza coreografo igor zeleschi e si si dice sia il fratello del presidente sto scherzando diciamo che non c'è nessuna parentela tra il presidente dell'ucraina e l'artista ma quel cognome oggi potrebbe essere diventato troppo ingombrante perché non so se avete visto la storia di quel zeleschi russo che vive in russia che solo perché si chiama zeleschi non riesce a trovare lavoro nessuno gli dà lavoro con quel cognome lì non gli danno lavoro e lui è russo russo igor zeleschi coreografo maestro di danza ande trois quatre le duple voilà 52 anni come riporta il rierone della sera fino a un mese fa è stato direttore del bayerischisch stats ballet il balletto di stato di monaco lo dirigeva dal 2016 e i successi non sono mancati per l'uomo che però per amore di caterina ticonova avrebbe rinunciato a quell'incario così prestigioso ovviamente tutto è avvolto nel mistero si tratta della famiglia di vladimir putin e anche le informazioni in merito al loro privato sono piuttosto nebulose di la seconda gente secondo genita del di putin si sa che a 36 anni ha una formazione scientifica avrà fatto scienze politiche come speranza essendo lei una neuroscienziata ma del suo attuale lavoro si sa molto poco non è ben chiaro se diriga ancora il fondo di ricerche tecnologiche russo in no pratica anche perché di recente erano iniziate a circolare voci su un suo possibile trasferimento in genna in germania che potrebbe avere un senso se la relazione con zeleschi e si è confermata beh su zeleschi si hanno informazioni più certe si sa che è nato a labinsk in russia e che si è formato all'accademia di vaganova a san pietroburgo una scuola di eccellenza per i ballerini andetro a quatre le duple voilà fin da giovane si è fatto notare per la grazia dei suoi movimenti tanto da diventare il graziato primo ballerino del teatro marinski è stato anche in italia ospite del balletto del teatro alla scala di milano ha poi trovato la sua collocazione ideale in germania almeno fino allo scoppio della guerra quando ha dato le sue dimissioni per motivi personali caterina si sarebbe trasferita in germania nel 2019 stanca dei continui viaggi avanti indietro per raggiungere il suo amato zeleschi ma come detto in precedenza non ci sono certezze nessun commento su questa notizia mi immagino la faccia di putti insomma se io fossi igor zeleschi non sarei poi così tranquillo sinceramente provate a mettervi nei suoi panni voi sareste tranquilli fidanzato della figlia con il nome con il cognome zelensky io non sarei tranquillo sinceramente visto come ragionano taluni non sarei propriamente contento di tenere di questa situazione insomma comunque una una curiosità che sicuramente per putti non è proprio una curiosità ecco detto che il fidanzato della figlia che si chiama zeleschi come come il presidente dell'ucraina credo che putti sarà rimasto guardando fisso il muro per un bel po di tempo pensando che devo fare beh ecco insomma il signor signor vladimir è solo un'omonimia e mi raccomando è solo si chiama solo come quell'altro ma è russo ed è coreografo maestro di danza è un 2 3 4 le duple voilà le je son fait va bene comunque mi raccomando è il signor vladimir è un'omonimia è ecco cerchiamo di insomma intanto volevo raccontarvi qualche altra notizia ma credo che non facciamo a tempo pregliasco che dice in autunno possibili 200 mila contagi al giorno voi direte cosa quella roba delle scimmie non è quella roba delle scimmie ma è il covid ecco adesso abbiamo anche il virus delle delle scimmie no il vaiolo delle scimmie ci mancava anche il vaiolo abbiamo anche l'asteroide che sta arrivando verso il mondo abbiamo poi ci manca un'invasione di cavallette giganti e gli alieni gli alieni già ci sono parecchi avvistamenti negli stati uniti ne stanno parlando insistentemente direi che non ci stiamo facendo mancare assolutamente niente ecco diciamo che sul futuro non sono poi così ottimista non sono poi così ottimista sul futuro non mio ma del pianeta della società in senso mondiale di quello che è il genere umano ecco non ho non ho questa sensazione così positiva non vi posso dire che l'ottimismo è il profumo della vita che miseria diceva tonino guerra nella pubblicità dell'unieuro ve lo ricordate no l'ottimismo è il profumo c'è c'è l'uccellino che che cinguetta come che diceva va beh grazie a tutti per avermi ascoltato ci vediamo tra qualche ora questo è l'ultimo video di questa tranche di questa parte di giornata sapete che io divido i video in due faccio tre ore di lavoro da un momento tre ore nell'altro e programmo questi video io lavoro circa 6 7 ore al giorno al canale per sette giorni su sette arrivederci e grazie grazie